ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video finalmente è arrivato il momento di pullare arlecchino abbiamo fatto una settimana di pull distruttiva non vi spoilerò niente dico già che questo sarà il primo di video ma ce ne sarà almeno un altro probabilmente altri due perché ha pullato veramente tanta gente abbiamo superato quasi le 3000 pull complessive è successo veramente il finimondo ma tanto lo vedete nei prossimi video questo è il video in cui pullo io quindi queste sono le mie pull e ne ho un bel po da parte e niente l'obiettivo ovviamente sarebbe prendere lei e l'arma se riesco anche a fare una costellazione sarei contenta non mi faccio grandi aspettative quattro stelle li ho poco costellati a parte shaling quindi quello che riesco a fare sono contenta di costellarlo se riesco a finirli tutti tanto meglio che almeno diventano tutte pull e niente allora io spero vada tutto per il meglio non ho grandi aspettative però vediamo come va detto questo vi invito a venire sul sito di viva dove facciamo le live che almeno vi vedete in questi momenti in diretta che è più bello e iscrivetevi al canale e niente buona visione datemi tirara datemi tirara allora si parte quattro stelle io ho questa brutta cosa del lag che mi farà capire purtroppo tutto prima però vabbè vediamo shaling sono comunque pulle quindi più ne vediamo meglio si sta però vorrei qualche costellazione niente fra i miei niente posso anche lasciarlo lì poi se me lo costello meglio però ecco appunto cioè quello che tra i due non userò quindi lo finisco diventano pulle mi sta bene però non ho grande necessità di averlo qua con me se escono più lì niente sono contenta ok bene andiamo a 50 ok 4 stelle si si tra i due è meglio sicuramente l'inette ora 4 stelle a metà molti quindi in realtà ho la sensazione che ce ne sarà uno anche solo uno anche in questa molti perfetto ok c c1 entrambi adesso sono entrambi c2 bene l'inette c2 e già è qualcosa visto che la c2 è abbastanza carina mi sembra poi oggi ho fatto il cosplay anche solo per questione affettive la vorrei appunto costellata se proprio devo il proprio devo cioè ho fatto il cosplay quindi va bene 60 4 stelle vediamo un'altra linette se esce in shaling si è fatto una multi per personaggio no un'altra linette molto bene c3 ottimo e c4 si che bello ok doppia bene sono contenta sono visto voglio costellare lei sono contenta c4 molto bene il potere del cosplay cazzo se non sapevo facevo il cosplay di arlecchino no non credo mi starebbe bene perché è un po' è un po' troppo autoritaria forse per la mia personalità quindi non so se riuscirei a immedesimarmici però tanta roba tanta roba ok 70 4 stelle ti prego a questo punto non mi uscire nelle singole andiamo ha uscita in fondo linette sto dicendo ma dov'è il 4 stelle ma è uscita in fondo la seconda linette quindi in fondo nella multi c5 no vabbè una pool giustamente abbiamo fatto un sacco di multi ci rifacciamo una pool indietro ci sta però adesso oddio il 4 stelle adesso è in fondo quindi non c'è garantito in queste 4 singole ok raga adesso questo è il momento del panico l'attenzione l'ansia la paura 4 singole allora iniziamo la prima è così avevo paura a 71 vi prego non mi uscire in queste 4 singole ti chiedo solo questo non in queste 4 singole 72 ok 73 e 74 ok 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 molto bene no perché non ce la potevo fare ce la potevo fare allora siamo alla multi del 5 stelle sfigato è portare a casa lei dai alla multi del 5 stelle non ha laggato non è lei non è lei non ha laggato non ha laggato non è lei e questo perso è perso adesso però mi dovete portare fortuna chiamatemi almeno Gino Tigrari per favore chiamatemi almeno Gino no 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 io lo so riconoscere se non lagga non è quindi chiamatemi almeno Gino Tigrari almeno non è una una perdita terribile 75 76 77 io ho paura ok vabbè ci sei anche te 78 perché non ha laggato perché non ha laggato però non ha laggato eh raga voi l'avete visto con me oggi la mia connessione non mi fa non fa laggare nemmeno bellissima PT4 giusto per iniziare ok e adesso si va di moltine chiamatemi la sua o se non è la sua chiamatemi l'arma PT basso cioè 4 si va a 14 dai dammi un'arma PT14 no no non mi aspettavo niente del genere però e le armi nuove 4 stelle non l'ho detto non l'ho detto però ecco non la perception ad esempio non poteva essere la multi personaggi così però erano 3 ma perché non erano multi dei personaggi vabbè vabbè 4 le uniche due che volevo le uniche due che volevo non me le ha date sì l'ho selezionata raga non sono pazza l'ho selezionata state tranquilli cioè vabbè io volevo questa volevo questa vabbè 24 non ce ne stupiamo l'arma di attacco on titan per favore che mi sembra di averla tipo R3 una roba del genere non l'ho finita sono sicura che R5 non ce l'ho quindi se mi vuole dare una di quelle meglio ah e Kirara ovviamente visto il banner armi spesso da personaggi se mi vuole dare la mia Kirara che io la sto aspettando accetto l'occhio della percezione solo se percepisci l'arma di Arlecchino se no 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 sì io ho l'arma di Nilu sì l'arma di Nilu secondo Pite ragazzi non ho ben ma io le vinco le armi a primo non lo so boh 34 Nisba è così nel mio account per le armi è così c'è solo da sperare che sia quella giusta oh perfetto bene quella qui voglio quella andiamo 44 pitigatti mi odio pure la beffa pure la beffa pure la beffa dai dammi Kirara su oggi oggi è il giorno oggi è il giorno di Kirara arriverà un giorno ragazzi che diremo oggi è il giorno di Kirara buono e sarà effettivamente il giorno di Kirara cioè non oso immaginare la mia gioia quel giorno quando sarà proprio war is over una festa si ballerà non lo so però arriverà un giorno in cui vi dirò oggi ragazzi è il giorno in cui troviamo Kirara tireremo e uscirà 54 oddio mio oddio no però oddio mio no mi vado a piangere mi vado a piangere perché tanto non sarà mai quella non sarà mai quella tanto malissimo dai andrò questa è 45 questa 45 46 io sono abbonata a questo cosa vi ho detto prima cosa vi ho detto la lancia di merda di Xiao sempre ragazzi io trovo sempre sì sempre raga la 30 tutto sace come sempre di nuovo ha presa in giro questa questa Dragon's Vein andiamo dai doppio 4 stelle oh è vero è vero eccolo qua queste armi non saranno ancora viste c'era anche lei che mi manca non ce l'avevo non l'avevo trovata l'altra volta ragazzi la segra elettrica portatile non l'avevo un bel lì avevo un'arma del banner ad armi che non ho mai trovato ragazzi oggi giornatona la userò di sicuro 40 la useremo di sicuro ok vediamo un po' ultima arma è uscita quella sì quindi può essere qualsiasi cosa una pull ovviamente se fossi stata una gatta dentro era meglio però questa è una pull che forse visto l'andazzo fa solo che comodo sacros sì sacros 50 oh eccoci qua queste sono le mie full del banner ma secondo me è l'arco di Fontaine perché effettivamente forse quelle di Sumerio sono state più generose quindi mi rifarò a Natalan avremo tutte le armi di Natalan che mi interesseranno quindi l'Arcon e il mio prossimo personaggio del cuore scoprirò a Natalan quando li faranno vedere come c'è stato per Navia l'imprinting come c'è stato per la Lightam eccetera eccetera che mi darà l'arma subito manifestiamo siamo già oltre 60 gatto non cane gatto gatto vabbè un'altra pool un'altra pool vediamo se c'è un doppio visto che era all'inizio se non il primo della multi prossima che poi non è la multi ok anche perché sono 4 singole adesso ok siamo a 60 4 singole e poi la multi del 5 stelle perfetto sarà bene sia quello perché se no cioè la prendiamo l'arma però poi ci fermiamo a C0 perché sì perché sì perché non c'è le risorse per fare altro quindi ok 2 3 ok e 4 non essere qui per favore ti prego ok bene multi del 5 stelle o è l'arco di linei o è la lancia della signorina io non vi dico niente preghiamo sia quella giusta e niente non vi dico altro speriamo sia quella giusta dai multi del 5 stelle ce l'abbiamo ok ok 65 66 67 grazie grazie cielo stelle e qualsiasi altra cosa grazie 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 madonna raga madonna che angoscia però adesso me ne dai due per farti perdonare vabbè va bene va bene va bene barba 4 singole mi ha detto liana perché siamo a pt6 quindi pt7 ma dammela ora tipo mentre tiro le singole così 8 9 4 stelle linette 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 una pull vabbè e 10 oh 4 stelle linette 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 e vaffanculo però allora scusami io giuro linette 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 prima l'uno e poi l'altro va bene va bene va bene dai voglio finire di costellarla me ne mancano due allora 10 andiamo a 20 dai early pt pt20 5 stelle no 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 questa cosa non esiste nel mio account allora vediamo ora 4 stelle in fondo perché me ne sono usciti due di fila io volevo soltanto una linette ma questa la percepisco bannerino armeno ok no un'altra pull vabbè e poi mi converso la multi ve l'ho detto lì lascio 200 quindi quelle che avanzano in più bene doppio 4 stelle e quelle che avanzano in più le usiamo quindi va bene doppio 4 stelle va sempre bene cioè qua ne abbiamo praticamente due multi queste poi le tiriamo dopo le due multi le altre le teniamo per futuri c6 20 andiamo a 30 qui c'è il pt22 niente va bene ok vediamo dai lunette si prego bimba esatto magnanima perfetto perfetto bravissima me ne manca una me ne manca una manca l'ultima così poi lei è c6 fremit non mi ricordo a quanto l'abbiamo portato alla fine era diventato c3 quindi quella lì era la c4 quindi anche di fremette me ne mancano due vai finiamo l'inette poi nelle multe stavano per la 70 perché tanto bisogna arrivare lì 40 no questo è perso questo è perso questo è perso facciamo come prima che ha portato bene chiamiamo gine tignari chiamiamo gine tignari chiamiamo gine tignari bravi prima portavo benissimo continuate così o prima o poi usciranno anche loro eh allora andiamo a 40 quindi veste 31 32 33 oddio oddio di bruttissimo auspicio 34 35 non dico niente non dico niente ho andato attraverso la mia stessa anima in questo momento ragazzi qualcuno dall'alto mi ha voluto bene i banner armi mi ha scammato come solito ma qualcuno mi ha voluto bene no doppio no ora non esageriamo però appiti 35 giusto? mi sembra 35 quindi 6 7 ok dai l'inette così anche lei diventa pool grazie oh l'abbiamo finita l'abbiamo finita oh che bello ok 7 bene 8 il cosplay oggi ha portato bene il cosplay ha portato bene 9 ok e 10 vai si riparte con le multi siamo a pt10 si va finché un esce il 5 stelle vediamo cosa succede ok viti 20 si riparte 20 4 stelle adesso 2 di 4 cioè 2 di 3 personaggi sono già c6 quindi sono tutte pool manca soltanto le ultime due costellazioni di freminet per completismo vorrei che uscissero così almeno ho finito anche lui di 4 stelle però se per caso non escono ecco questa ecco ragazzi quello vi sta per dire se non escono pazienza però bello bello va bene 30 che cazzo si fa ora che cazzo si fa ginnetti gnari avete già iniziato a scrivere ginnetti gnari no raga 3 su 3 non può funzionare porta mi sono girata ho visto un muro di ginnetti gnari ho detto ma che cazzo sono girata vabbè ragazzi qua qualsiasi cosa sia può essere tutto fa bene lo stesso cioè questa è pt21 questa è pt21 questa singola quindi direi che 22 23 24 no ragazzi no non è vero no non è ragazzi non è vero ragazzi non è non è non è non è reale no ragazzi non è vero non è vero non è vero è l'account di federica di la verità no è il mio no no giuro è il mio è il mio cioè lasci uno a pt35 e lasci due a pt25 mamma te lo aveva detto meno male c'è la mamma meno male c'è 24 scusate 24 scusate 20 qua no 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 no